Edmond, Paola, Amit, Simone, Fang Fang, vieni anche tu, comincia la lezione forte, comincia la lezione forte. Sono i tuoi giocattoli? Il trenino è di Luis, l'orsetto di Noemi. Giochiamo con le bambole? Sì! Ci sono le mie figurine? Sì, ecco. No, le mie figurine! Ecco le figurine. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Otto, nove e dieci. Ecco le figurine. Ecco Chicco, Chicco è il mio gatto. Vuoi vedere Ulisse, il pesce rosso di Noemi? Vieni! E Pallino? Vieni qui, Chicco! Chicco, stai fermo! No, Chicco, non va bene. Guarda, Fang Fang, lui è Pallino, il mio cane. Ciao! Giancarlo! Tocaحتiu! Vi deve fare gol wentrale oppdatare. Come, ci? Ho bei. Come, cevo? Allia. Ma hai! Parlé, miamo a il nostroIES. Ti Скlessio. absorbe che ti stai fermo. Amma è un Diego paese, Utilizisise! Trafore!